Benvenuti a tutti sul mio canale, io sono Nancy e oggi parliamo di... Toto Cutugno, nato il 7 luglio del 43 e scomparso oggi, 22 agosto, all'ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato per l'aggravarsi di una lunga malattia. È stato uno dei cantanti più amati in Italia e simbolo della melodia italiana all'estero, grazie soprattutto all'italiano, diventato nel tempo una specie di inno nazionale. 15 partecipazioni al Festival di Sanremo all'attivo, autore di età amatissime anche all'estero, dall'italiano al tempo se ne va, la mia musica solo noi per citarne solo alcune. Cutugno è stato un vero uomo di spettacolo, capace di passare con estrema disinvoltura dal cantautorato alla conduzione televisiva. Nell'87 infatti fu alla guida di una fortunata edizione di Domenica Inn. I funerali di Toto Cutugno si terranno giovedì 24 agosto alle ore 11 alla Basilica Parrocchia dei Santi Nereo e Achilleo in Viale Argone 56 a Milano. A comunicare la notizia del funerale di Toto Cutugno all'ANSA il manager Danilo Mancuso assieme alla famiglia dell'artista. Grazie. Grazie.